Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo all'escalation di attentati incendiari che negli ultimi giorni a Gela ha avuto purtroppo un'impennata notevole. Il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice, invoca l'arrivo dell'esercito in città. Il ritorno dell'esercito a Gela potrebbe rappresentare un deterrente irrinunciabile. Rimane vitale il ruolo della famiglia, della scuola, dei centri di aggregazione, ma a tutto questo va affiancata una terapia d'urto in grado di far avvertire la presenza dello Stato ai cittadini sempre più insicuri nei propri spazi urbani e sempre più in tensione, perché non si intravede una soluzione. E quanto sostiene il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice, a seguito degli ultimi attentati incendiari che si sono verificati in città e che nella notte tra domenica e lunedì hanno interessato anche il primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, Catano Orlando, a cui ignoti hanno bruciato due macchine. Che noi pensiamo che sia del tutto anomalo trascorrere ogni notte con le macchine incendiate in un quartiere o piuttosto che in un altro, indiscinnamente dalla casalinga al professionista. Siccome è un peromero che si ripete da anni, credo che anche gli investigatori abbiano le considerazioni dovute che restano loro nel rispetto al loro ruolo. c'è una città insicura, una città insicura allontana gli investitori italiani ed esteri, allontana i sessi ingelesi che hanno perso la serenità da molti anni e non può passare, non ci si può asfefare a 60 auto l'anno bruciate o forse anche di più. E siccome stiamo parlando di un'anomalia democratica, rispetto all'anomalia democratica, è chiaro che ci vuole una terapia d'urto, che personalmente individuo nell'arrivo dell'esercito per avere un maggior controllo del territorio. Giudice, ma così facendo non avremmo una città militarizzata? Noi dobbiamo scegliere di stare con lo Stato o assecondare i delinquenti che ogni notte bruciano le macchine. Siccome mi pare che la maggioranza dei gelesi è persone per bene, ma è in mano di una minoranza fatta dai delinquenti più o meno organizzati, noi dobbiamo scegliere di stare con lo Stato. Lo Stato in questa Repubblica è rappresentato alle forze dell'ordine, in questo caso dall'esercito. E non è l'esercito quello che ci ricordiamo più di vent'anni fa, posizionato soltanto nei luoghi della giustizia. Significa per me dare carta bianca a tanti uomini che per lo Stato esercitano il controllo reale del territorio senza arrecare nessuna forma di fastidio o disturbo ai cittadini. Anzi, se il cittadino si sente sicuro sia di notte che di giorno, sarà più sereno. E il cittadino sereno poi è capace di investire, non decide di andarsene e la città non avrà anche un arricchimento da questa forma di controllo del territorio. Intanto l'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Galtanissetta esprime solidarietà nei confronti di Gatano Orlando, primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, al quale, come dicevamo, sono state incendiate due auto. A nome personale del consiglio direttivo sono vicino al collega vittima di un ignobile atto intimidatorio, dice il presidente Giovanni Di Polito, confidiamo nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine affinché individuino al più presto gli autori di un vile gesto criminale. Questi episodi di violenza ripropongono il problema della sicurezza dei medici e degli altri operatori sanitari impegnati negli ospedali e nelle guardie mediche del nostro territorio che più volte abbiamo segnalato. Siamo consapevoli, aggiunge il presidente provinciale dell'ordine dei medici, che questa grave intimidazione non condizionerà la qualità e la regolarità delle prestazioni offerte dal collega Orlando nei confronti dei pazienti che il suo impegno proseguirà al servizio di chi soffre. È stato arrestato dai carabinieri di Gela un divenente dell'Agenzia delle Entrate accusato di aver truffato i contribuenti. Si tratta di Salvatore Incarbone, 50 anni, mazzarinese. La vicenda risale al 2009 quando l'uomo lavorava nella filiale di Gela dove prestava servizio come coadiutore quindi con mere mansioni di base. Spacciandosi a volte per vice direttore e in altre per impiegato amministrativo aveva convinto alcuni malcapitati a consegnare somme di denaro per intercedere su cartelle esattoriari sostenendo che avrebbe fatto da intermediario per ottenere sconti sulle tasse. Dopo un'indagine condotta dai carabinieri di Mazzarino e dal nucleo operativo di Gela l'uomo finì sotto processo per truffa aggravata e condannato a due anni di reclusione sentenza divenuta adesso definitiva. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Contrada Balate a Gela. E ora parliamo di cyberbullismo l'assessore comunale Licia Bela applaude all'impegno della fondazione Aldisio. Il lavoro sinergico intrapreso contro il cyberbullismo dalla fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio presieduta da don Giovanni Tandurella trova nel comune di Gela un partner sensibile per una navigazione consapevole dei più piccoli internauti sempre più esposti ai pericoli della rete. Lo dice l'assessore comunale ai servizi sociali e di istruzione Licia Abela. La fondazione Aldisio ha restituito al settore servizi sociali e istruzione un documento molto importante sono i dati che hanno certificato lo status attuale del livello di cyberbullismo presenti nelle nostre scuole. Un monitoraggio molto attento che si è concluso con l'attivazione di un numero telefonico per fornire a chi effettivamente ritiene di essere vittima o comunque desidera avere dei chiarimenti in merito alle questioni del cyberbullismo la possibilità di avere un confronto con personale qualificato. Io e comunque insomma il settore in toto abbiamo accolto positivamente questa raccolta di dati perché rappresentano uno spaccato importante della visione attualissima di una problematica altresì attuale che è appunto quella del cyberbullismo e quindi insieme perché no anche alla fondazione riuscire a trovare gli strumenti che possono essere di lotta efficaci rispetto ai dati che ci sono stati rilasciati. I dati forniti dalla fondazione al culmine del monitoraggio effettuato tra le scuole primarie e secondarie di primo grado in città a riferito Licia Bela ci inducono ad una profonda riflessione e alla necessità di approfondimento di un fenomeno dedicato per la crescita delle nuove generazioni. Va dato merito alla fondazione Aldisio di aver saputo creare una squadra qualificata per affrontare la questione da professionisti, psicologi e legali fino alla polizia di Stato. Adesso grande attenzione va puntata anche sulla percezione che del cyberbullismo hanno i genitori delle potenziali vittime o degli attuali prevaricatori. E in questo senso continua Bela il progetto For You sempre promosso dalla fondazione Aldisio rappresenta la naturale continuazione di questo percorso. L'assessore comunale ha invitato quanti ne avvertano il bisogno a rivolgersi alla linea telefonica attiva da oggi pomeriggio. Il numero è 377-9873-120 Cambiamo argomento i parametri batteriologici dell'acqua erogata a Caposoprano a Gela sono tornati conformi e quanto rassicurato dalla Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta al Comune di Gela. Rientrati i valori idrici nella norma il Sindaco Domenico Messinese ha revocato l'ordinanza del 4 novembre scorso con cui vietava agli utenti del quartiere l'uso dell'acqua per fini alimentari. Ad un anno dalla sua scomparsa la pubblica assistenza Procivis di Gela ricorda Giacomo Ferrera sabato 19 novembre alle 17.30 nella sala congressi in via Ossidiana 23 don Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia alla presenza dei volontari del mondo del volontariato e di tutti coloro i quali vorranno partecipare al termine della messa la presenza della moglie Maria Granvillano seguirà l'intitolazione della sala operativa a Giacomo Ferrera già coordinatore provinciale del servizio emergenza radio e della federazione italiana ricetrasmissioni. Uno spiraglio di luce sembra aprirsi all'orizzonte per la prosecuzione dell'attività del centro diurno Alzheimer e del centro autismo dell'ospedale Raimondi di San Cataldo a darne notizia ai familiari al comitato bambini e ragazzi speciali di recente costituitosi e alle associazioni familiari Alzheimer e ISPED il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono dopo l'incontro di venerdì scorso a Palermo della direzione strategica con l'assessorato regionale alla sanità. Una corsa contro il tempo quella della direzione dell'ASP che ha deciso di assumersi la responsabilità della prosecuzione dell'attività per un anno visto l'imminente scadenza dei contratti Coco Pro fissata per il 31 dicembre dei circa 40 operatori dei due centri una gara d'ostacoli quella che gli uffici dell'ASP stanno affrontando per evitare un ulteriore disagio alle circa 200 famiglie. Ci stiamo muovendo in una soluzione che ci potrebbe consentire di fare dei contratti e quindi di assumere del personale per un anno nell'emore che venga trovata una soluzione definitiva perché l'obiettivo è quello di istituzionalizzare e strutturare il servizio ritenendo che questi servizi che entrano nell'ambito dei le che sono servizi essenziali non possono essere pensati come progettualità sporadiche ma devono essere assolutamente definiti come soggetti permanenti come strutture permanenti che abbiano a cura il paziente in tutte le sue sfaccettature se parliamo dell'autismo partendo dalla diagnosi precoce al dopo di noi se parliamo dell'Alzheimer partendo sempre da una diagnosi precoce a tutte quelle che sono le attività di riabilitazione e mantenimento delle funzioni essenziali della vita quindi questa è una soluzione che potrebbe permetterci di andare avanti per un anno e in quest'anno trovare quelle che sono soluzioni definitive per il futuro una battaglia quella intrapresa dalle associazioni coinvolte che intendono proseguire per reistituzionalizzare il servizio una volta per tutte siamo davvero grati alla direzione generale perché pone sempre grande attenzione nei confronti della problematica dell'autismo noi aspettiamo ancora una convocazione che è stata richiesta oltre un mese fa all'assessorato regionale e vediamo a che punto sono con le proposte che farà la direzione generale per poter risolvere almeno temporaneamente questo problema ma l'auspicio è come ha detto la dottoressa Santino di voler rendere strutturale il servizio e risolvere il problema una volta per tutte perché l'autismo rientra nei LEA e pertanto non può essere gestito a progetto le emergenze non vanno gestite in questo modo deve diventare un problema che deve essere risolto in maniera strutturale e stabile permanente l'assessore comunale ai servizi sociali Ligia Bella ricorda che entro il prossimo 30 novembre le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7500 euro o le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune di Gela è stato convocato per domani alle 11 al Comune di Gela dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia il gruppo di lavoro Porto di Gela saranno presenti la protezione civile il responsabile unico del procedimento Ghetano Calafato il comandante della Capitalleria di Porto Pietro Carosia il comandante gruppo piloti Giovanni Canale e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela l'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia e Eni Comune di Gela per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di Ponente Cambio di programma nella visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Caltanissetta infatti non sarà più il Teatro Regina Margherita ad ospitare la seconda parte della visita del Premier bensì il Centro Polivalente Michele Abbate la gestione dopo una lunga riunione tra i vertici del PD e del Sindaco la responsabile del cerimoniale che pare abbia fatto le barricate perché la visita non è considerata istituzionale o meglio abbastanza istituzionale ma di promozione referendaria per la campagna e dunque non si può concedere il Teatro Comunale per regolamento e nessuna iniziativa di carattere politico ed allora il PD ha optato per il Michele Abbate tra l'altro la prefettura non avendo ricevuto comunicazione ufficiale per la seconda parte della mattinata del Premier in città non ha concesso tra virgolette il marchio dell'istituzionalità in realtà la visita così come congeniata resta un ibrido tra l'istituzionale ed il politico la prima parte infatti è dedicata alla CMC alla firma del protocollo è la parte istituzionale invece l'altro a quella che riguarda il sì è più politica ma non completamente infatti durante il faccia a faccia con i sindaci Renzi ascolterà sei sindaci siciliani che parleranno della loro esperienza nella nostra terra e sarà inoltre accompagnato dal ministro Galziano Del Rio dal sottosegretario Davide Faraone a parlare per i sindaci della provincia sarà Giovanni Ruvolo secondo il principio della concessione del teatro un altro problema si staglia all'orizzonte infatti sabato 26 al teatro Regina Margherita ci sarà un altro incontro per il Zì che ospiterà Pier Ferdinando Casini Gianfiero Dalì e Gianluca Miciche Renzi dopo la volata nissena andrà comunque a Palermo dove è previsto un incontro per le 14 per parlare di agricoltura al teatro Politeama venerdì 18 novembre prossimo l'associazione Gela Famiglia per sensibilizzare sui diritti dei bambini in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia che ricorre il 20 novembre aderisce all'iniziativa nazionale in farmacia per i bambini promossa dalla fondazione Francesca Rava i volontari dell'associazione raccoglieranno farmaci e prodotti pediatrici per bambini nelle farmacie che hanno aderito a Gela all'iniziativa i prodotti raccolti saranno donati alle famiglie della nostra città che si trovano in difficoltà economica le farmacie che hanno aderito sono Gennuso via Venezia Labbate via Palazzi Pintaudi via Verga San Giacomo Corso Salvatore Aldisio Salerno sempre in Corso Salvatore Aldisio e Vardica in Viale Corte Maggiore a Macchidella Fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste sacchetti zucchero e farina scioper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci rieccoci seconda parte del telegiornale è previsto per domani alle 16 lo scoprimento della lapide sul restauro del convitto Pignatelli a Gela l'iniziativa del consiglio di amministrazione dell'operapia principessa Pignatelli Roviano preseduto da Rocco Vacca alle 18.30 in chiesa madre sarà celebrata la messa in suffraggio di Monsignore Grazio Labbiso nel trigesimo della sua scomparsa tre giorni gelese per lo scrittore Crociviso Dentello nell'ambito della rassegna culturale dei venerdì letterari promossa dal comune di Gela l'autore di Finché dura la colpa presenterà il nostro romanzo d'esordio giovedì prossimo alle 18.30 nei locali della biblioteca comunale venerdì alle 9 all'Itis Majorana e alle 11 all'Alicio Scientifico Vittorini ed infine sabato alle 11 incontrerà gli studenti dell'Alicio Classico Eschilo nella libreria Randazzo Gela è la città natale dei miei genitori ha detto Dentello e pertanto ad un anno esatto dalla nascita di Finché dura la colpa mi sembra di celebrare l'anniversario sul filo di un ritorno alle radici nutriamo grande interesse per gli appuntamenti gelesi di Crociviso Dentello ha commentato l'assessore comunale alla cultura Francesco Sardinitro perché avremo l'opportunità di conoscere da vicino un cultore dei libri che prima di partorire la sua opera prima si è fatto notare sui social media incassando l'attenzione di critici scrittori e lettori cambiamo argomento e adesso parliamo di calcio il Gela vola in serie D la formazione Biancazzurra consolida l'ottima posizione in classifica dopo il successo il secondo consecutivo ottenuto domenica a Roccella il Gela è ritornato Corsaro e Biancazzurri hanno ricominciato a fare punti in trasferta dopo la debacca di fratta maggiore e hanno nuovamente riassaporato il gusto del successo fuori dalle mura amiche domenica scorsa Roccella e i gelesi hanno colpito al momento giusto incamerando tre punti importantissimi un successo costruito con razziocinio le vittorie si ottengono quando c'è da soffrire in campo quando c'è nel momento di difficoltà la squadra reagisce e botta su botta risponde all'avversario poi alla lunga la qualità del Gela esce sempre fuori però se nel momento di difficoltà che l'avversario ti presa ti attacca non hai una squadra compatta e tutti gli elementi si sacrificano sulla seconda fase è quella della fase difensiva poi sulla fase offensiva abbiamo grande qualità abbiamo grande velocità in questo momento e questo viene 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 sfruttato il Gela domenica ha atteso l'avversario e lo ha punito con puro cinismo noi in velocità in rapidità in profondità abbiamo giocatori di grande di grande di grande di grande valore come Bonanno Kosovan Montalbano hanno questa questa profondità e questa attacca agli spazi che in questo momento ci stanno dando grandi risultati poi abbiamo messo anche Maurizio Nassi che è entrato in un momento di difficoltà degli avversari lui con la sua qualità ha messo in difficoltà e la squadra la squadra voleva vincere e noi abbiamo fatto delle scelte per puntare alla vittoria finale le chiedo mister a proposito di Maurizio Nassi come mai l'attaccante non gioca dal primo minuto qua abbiamo 20 elementi l'allenatore fa delle scelte per schierare la miglior formazione Maurizio come gli altri stanno stanno lavorando al 100% poi di volta in volta l'allenatore sceglie in base al tipo di gioco che vogliamo fare in questo momento la squadra si trova molto bene con tre veloci senza dare punti di riferimento abbiamo fatto questa scelta ma non non è una scelta definitiva di volta in volta noi faremo faremo delle scelte con il mio staff faremo delle scelte rispetto rispetto all'avversario come si schiera come si schiera l'avversario in fase difensiva un vecchio raggio recita che non c'è due senza tre il Gela è reduce da due vittorie di seguito si festeggerà domenica prossima anche contro la Versa Normanna lo slogan è prima di scendere in campo abbiamo fatto questo cerchio che è determinante e allora la frase è ci siamo promessi di dare tutto e noi domenica ci promettiamo promettiamo di dare tutto nuova avventura per l'insegnante di ginnastica artistica il giorese Walter Miciche nominato consigliere regionale del comitato siciliano della federazione ginnastica d'Italia Miciche chiude un quadriennio ricco di impegni e di soddisfazioni è stato direttore tecnico regionale della sezione ginnastica per tutti per tre quadrienni olimpici nel corso di questi 12 anni dopo sono state tante le esperienze sia in campo regionale sia nazionale che internazionale sentiamo proprio ai nostri microfoni Walter Miciche Walter Miciche con il nuovo incarico cosa cambia per la ginnastica prettamente locale in realtà locale niente tra virgolette nel senso che in quell'età di direttore tecnico regionale prima mi sono occupato in questi 12 anni dei tecnici della formazione dei tecnici dei giudici e dei programmi regionali questa è la parte che competeva il direttore adesso da consigliere regionale mi occupo di dare l'indirizzo politico per il lavoro da fare in Sicilia e quindi per ciò che riguarda gli aggiornamenti nella nostra città e tutto ciò che è di formazione comunque rimane perché comunque c'è sempre questo legame intimo con la mia città l'unica cosa che in qualche modo cambia che probabilmente non sarò nella parte proprio operativa per quanto riguarda quella tecnica ma sono comunque sempre nel mondo della ginnastica e nella sede regionale della ginnastica a Catania lei porterà le attività che sono maturate nel tempo a Gela perché a Gela realmente avete ottenuto straordinari successi in realtà ne abbiamo fatti diverse di manifestazioni adesso già ne ho qualcuno in programma non anticipiamo nulla a Gela comunque rimarrà un punto fermo su cui fare delle attività regionali per il movimento della ginnastica siciliana cosa potresti organizzare a Gela un evento regionale interregionale guardando un po' più avanti strisando l'occhio a qualcosa di più grosso a un evento internazionale una delle proposte che mi hanno fatto già in federazione nazionale era quello di organizzare la golden age qui a Gela si parla di ginnastica si parla di cosiddetto sport minore ma non è più in effetti così direi di no anche perché la federazione di ginnastica è nata nel 1869 e da quell'anno insomma ad oggi ne ha di tesserati tantissimi praticamente se non ricordo male prima c'è il calcio e poi c'è la ginnastica se lo aspettava questo nuovo incarico? diciamo che è stato non ci pensavo in realtà però una richiesta dalle varie associazioni e questo proprio colgo l'occasione di poter ringraziare tutte le società siciliane che mi hanno votato e il presidente Euronio Bonfiglio che è la capo di questo commettatore regionale dove insieme agli altri sette componenti porteremo avanti la ginnastica la pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antitodo di Gela in proiezione il film Lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 e all'antitodo è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 338 7143 293 330 225 442 e 0933 822 707 lavoramento intero lo ricordiamo costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani e al teatro Eschilo sempre di Gela sabato 19 novembre alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gerswin per la regia di Turi Giordano e Manola Turi ci sono ancora biglietti disponibili lunedì 21 invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in audio Amleto per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 3 4 5 5 8 8 0 5 8 0 l'informazione si chiude con la pagina dello spettacolo grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito Grazie a tutti.